Speriamo di aver fatto un buon lavoro di non aver scradito la vostra fiducia. Avete un ruolo importante stasera che può fare molto bene altri. Aggiungo questo luogo comune, mai lavorato con attori peggiori. Sono proprio orgogliosa. Stefano Soli ma compie una funzione sociale enorme nei confronti della famiglia. Grazie ancora, se vi piace ditelo in giro, se non vi piace fate anche qualche cosa, è che proprio uno deve raccontare tutto. Buona visione!